Le favole di Esopo, la gallina dalle uova d'oro Esisteva, tanto tempo fa, una prodigiosa gallina che riusciva a generare, una sola volta al giorno, un uovo d'oro. Il contadino che la deteneva, però, avido di quel prezioso metallo, dopo qualche tempo decise di uccidere quel fantastico uccello perché pensava che nell'addome di quest'ultimo ci fosse ancora più oro che nel guscio delle sue cellule germinali. Purtroppo per lui, e soprattutto per la povera gallina, all'interno della pancia di questa non vi trovò nessun metallo prezioso, ma solo dei naturali organi digerenti. Per la sua bramosia, quindi, il campagnolo perse quella preziosa nonché unica fonte di guadagno che percepiva gratuitamente ogni giorno. Morale della favola? Chi non si accontenta del bene che già, ma addirittura lo mette a rischio per avere ancora di più, può perdere questo anche per un semplice gesto.